Buonasera, bentrovati alle Tgmed Sport. Apriamo con la visita del presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò, a Palermo per incontrare tutti i presidenti di federazione. Lo sapete, il CONI regionale è commissariato e allora si andrà alle elezioni ancora da decidere con esattezza la data, ma scelta a coprire questa carica di presidente regionale per la fine di questo quadriennio olimpico, quindi per i prossimi due anni, con tanto ancora da fare. E con Giovanni Malagò che ovviamente ha portato avanti la sua candidatura, quella di Sergio D'Antoni, lo ricorderete, ex presidente del Palermo, ex sindacalista, è stato anche presidente della Lega Basket, dunque un uomo di sport. Una candidatura, quella portata avanti da Malagò contro di fatto le proposte nulle da parte dei presidenti della federazione, delle federazioni sportive, che in questi mesi di regenza non sono riusciti a trovare un nome su cui concentrare tutte le forze per rilanciare lo sport siciliano. E allora è intervenuto Giovanni Malagò, lo ascoltiamo, spiegare le motivazioni di questa candidatura di Sergio D'Antoni, anche se ovviamente dalla bocca del presidente nazionale del CONI il nome dell'ex presidente del Palermo non è mai uscito. Sono venuto qui anche per dare una testimonianza in questo senso, secondo me ci sono tutti i presupposti per andare alle nuove elezioni, come credo che sia innegabilmente giusto. Ci sono già delle indicazioni, nel senso darà a lei anche delle indicazioni o è soltanto per un atto formale e dare il via poi a tutto il resto delle consultazioni? Io penso che serva la mia opinione, considerando il contesto particolare, in questo senso serve un candidato di transizione, siamo a metà del quadriennio e quindi in buona parte del mandato che regola le cariche del CONI, sia nazionale che regionale, è stato impegnato. Candidato super partes e poi alla fine di questo quadriennio avviarci verso un discorso probabilmente di una candidatura diversa. Questa è la mia opinione, questo è quello che io ho espresso, è un'opinione che ritengo che sia quella di buon senso, ma soprattutto poi sarà l'assemblea regionale e il CONI regionale a decidere chi dovrà essere. Io ho qualche idea, ce l'ho e stiamo a vedere. Ma guardi, io penso che la Sicilia è forse la cartolina in tutti i sensi, ovviamente in piccolo, con le dovute proporzioni che rappresenta il termometro dello sport in Italia. Ci sono delle luci, ci sono molte ombre, ci sono delle eccellenze che spesso sono individuali, che sono legate a delle piccole enclave, delle società sportive hanno creato, direi, nel territorio una realtà anche più neristica, coraggiosa, e invece zone dove onestamente c'è un grande bisogno di tutto, di strutture, di tecnici, di persone. E quindi la prima cosa che mi sento di dire, oggi ne ho parlato con tutta l'assemblea, ne ho parlato al Presidente Scarzo e che dirò al Presidente Progetto che noi del CONI siamo disponibili anche a dare un sostegno, anche finanziario, per fare un vero censimento dell'impiantistica. C'è una necessità assoluta, perché qualsiasi intervento deve essere fatto in un modo mirato, non possiamo più sbagliare, perché poi spesso sono delle risorse che sono pubbliche. Cosa voglio dire? Che bisogna fare un campo da tennis dove c'è veramente bisogno di un campo da tennis, dove non ce n'è uno dall'altra parte della strada che magari non è utilizzato. Questo vale ancora di più se si parla di piscine o di palazzetti. Soprattutto bisogna in questo censimento capire gli impianti che esistono, gli impianti che sono da completare, quelli che sono finiti ma non sono a norma. Insomma, facciamo un discorso con serietà, con onestà, ma diciamo un punto zero, però con grande ottimismo, come mi sento di avere. A proposito di Palermo, calcio. Il Palermo si avvicina alla sfida di Latina, lo stadio Francioni, che sarà tutto esaurito. Sabato in scena il Palermo, primo in classifica, Latina secondo, con il Palermo che potrebbe festeggiare già la matematica promozione in Serie A. Se giornate dalla fine ci sarà anche Abel Hernández che è tornato convocabile, molto probabilmente invece non ci sarà Maresca che ha ancora problemi a un polpaccio fuori causa. Anche Mugnoz e Morganella. Morganella che però ricomincerà a lavorare regolarmente con il gruppo a partire da lunedì prossimo. Domani le parole di Iachini in conferenza stampa, ovviamente le indicazioni sulla formazione, la formazione che sarà di fatto praticamente la stessa delle ultime giornate di campionato. Molto simile a quella che ha inanellato quattro vittorie consecutive, ma anche in Latina arriva da una serie molto positiva. Mentre deve interrompere la sua serie negativa il Trapani di Boscaia, potrebbe recuperare tra gli infortunati soltanto Pirrone contro i Campani. Intanto ha parlato il portiere Emanuele Nordi, bersagliato nelle ultime giornate di campionato. 11 gol presi in quattro partite, sono davvero una cifra incredibile. E lo stesso portiere del Trapani spiega come mai. Sicuramente è andato di fatto che abbiamo preso un po' troppi gol ultimamente, però sono momenti, sono periodi anche che vanno così, che magari alla prima disattenzione veniamo puniti. Ultimamente non siamo riusciti a limitare i danni. Però arrivarci particolari no, perché l'unico modo per uscire da queste situazioni è lavorare, parlare il meno possibile e concentrarsi al massimo per la prossima sfida. In questo momento la Juve sta a pensare solo a questa partita e nient'altro. È inutile guardare il passato, perché non serve a niente, bisogna guardare sempre al futuro ed essere ottimisti. Di Palermo abbiamo parlato con il responsabile delle produzioni sportive su TRM, Salvatore Geraci. Abbiamo dimenticato per un po' di giorni, non perché non ne riconosciamo il valore, ma proprio per la grandezza del Palermo, che c'è un avversario che è secondo in classifica, che avrà tantissimi punti di distacco, che però è una signora squadra, che ha fatto il suo, lo ha fatto bene, e che per certi versi è gemello del Palermo, nel senso che ha le stesse caratteristiche del Palermo, fermo restando un valore di mercato dei giocatori che è nettamente a favore del Palermo e non dell'Atina. Però questa squadra, che in fondo rappresenta quasi un quinto o un quarto del Palermo, ha fatto il suo bravo campionato e, se mi consenti, se il Palermo dice noi giochiamo per vincere, non vedo perché loro debbano giocare per perdere, giocheranno proprio per fare la sorpresa. Tra l'altro ricordiamoci che una delle macchie del campionato di Iachini è proprio la sconfitta in casa con Latina, e quindi una delle due sconfitte maturate da Iachini, e quindi bisogna stare molto attenti. Andiamo su trmweb.it della sezione sport per tutti gli approfondimenti, e in particolare oggi ci dedichiamo al mondo della pallavolo con il presidente provinciale Roberto Mormino, che è stato ospite di TRM Mattino e che ha presentato la 46esima edizione del Trofeo delle Province, che si disputerà il 30 aprile e il 1 maggio a Cefalufi, Carazzi, Termini, Merese e Trabia, riservato alle categorie under 14 femminile e under 15 maschile. È stata un'occasione anche per toccare altri temi, tra i quali l'impiantistica sportiva e soprattutto il rapporto sempre più difficile tra il mondo dello sport e quello della scuola. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Affari in oro. Valutazioni abbondanti. Quasi eccessive. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione, personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti. Aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, Rotonda Viale Lazio. Infoline 091-784-6193. Presenti anche su Facebook. www.edilizia-piva.it Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia Mi Piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia Mi Piace o su www.dimensioniarredi.it Abbondanti e generose, come le valutazioni di affari in oro.